Si può parlare di una costituzionalizzazione del processo penale al di là dello Stato-Nazione. E perché dico al di là dello Stato-Nazione? Perché nella Unione Europea, nelle comunità, prima abbiamo ovviamente il mercato interno integrato con la libre circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e dei beni, con un mercato, con uno spazio integrato. Dal Trattato di Amsterdam, cioè 1999, abbiamo questo famoso spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ho anche uno spazio comune del territorio di tutti gli Stati membri, dove si elabora una politica in materia di migrazione, in materia di affari interni e in materia penale, cioè tanta lotta contro la criminalità e garantire sicurezza. Questi due spazi, mercato interno e spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ovviamente debbono essere elaborati alla luce della tutela dei diritti umani. L'articolo 6 del Trattato. Diritti umani consacrati nella CEDU, diritti umani consacrati nella Carta della Denizia, integrato nel Trattato di Lisbona, e poi ovviamente che i principi generali del diritto dell'Unione. Allora, di prima vista, io potrei dire, e ovviamente dovrei chiudere se dico così, io potrei dire l'impatto della Unione Europea sul processo penale, di prima vista, è quasi inesistente. E se esiste, è molto recente. E questo è vero se mi limito all'armonizzazione dal diritto dell'Unione del processo penale. Armonizzazione che oggi è previsto nell'articolo 82 del Trattato sul funzionamento della Unione. Armonizzazione soprattutto delle garanzie. Questo è molto recente. Da 2009 è stato utilizzato dall'Unione per elaborare direttive, come per esempio la direttiva sull'assistenza a un avvocato durante il primo interrogatorio, o una direttiva sul diritto alla traduzione di elementi essenziali per la difesa. Questo è solo da prima vista. Perché ci sono altre porte, o altre finestre, per le quali l'Unione ha un impatto sul processo penale. E ovviamente una finestra è la cooperazione giudiziaria. E questo è molto più vecchio ovviamente che l'armonizzazione, data dagli anni 50 del Consiglio d'Europa e anche ovviamente dentro l'Unione. Parla qua di estradizione, di ottenzione dei prove all'estero, eccetera, eccetera. E anche l'influenza dei diritti umani in questo nuovo campo di diritto di integrazione. Perché i diritti umani ovviamente hanno un vincolo con il processo penale, con il processo giusto, l'articolo 6, il diritto alla libertà, l'articolo 5, ma anche il divieto della tortura, eccetera, eccetera. Io prendo un esempio, prendo un diritto umano molto concreto dove la cosa è andata bene in questo spazio nuovo per illustrare come si è attuato. Dopo concludendo, c'è un campo enorme dove non si è ancora fatto niente. Dove è andato bene? Prendi due esempi e lo vanno capito subito. Un tedesco assassina un italiano, gravissimo ovviamente, in Trento. Viene condannato, quel tedesco, ha 20 anni di prigione e poi è 20 anni di prigione, dopo 20 anni di prigione, è libera, va in Germania, è detenuto di nuovo, processato di nuovo, condannato di nuovo per il medesimo fatto. Un problema di combinazione di giurisdizione penale. primo esempio. Questo è della realtà, oggi. Secondo esempio, un olandese specializzato, come tanti olandesi, nel commercio delle droghe e si è specializzato nel commercio di cocaina tra l'Olanda e l'Italia. Ven condannate due volte, tanto in Olanda come in Italia, per il medesimo fatto, il stesso trasporto di cocaina, penolando per esportazione, in Italia per importazione. due qualificazioni di diritto penale differenti, di diritto sostanziale differenti. Allora, la mia domanda è, ovviamente, questo a vedere con la protezione contro la doppia persecuzione e la doppia punizione, il principio nebisenidem o double jeopardy, in questo spazio nuovo del mercato interno, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ha diritto a tutela di protezione dei nebisenidem, che, in me, gli esempi, ovviamente, vengono di giurisdizione di Stati e Nazioni. Il nebisenidem tradizionalmente è un principio vincolato allo Stato, a vedere con la sicurezza del diritto res judicata. Negli ultimi decenni si è cambiato, ovviamente questa sicurezza del diritto c'è ancora, si è convertito in un diritto umano. cioè in un diritto soggettivo anche. E questo si vede ovviamente negli strumenti di diritti umani al livello globale, cioè nel patto internazionale sui diritti civili e politici, ovviamente anche nell'accedo, sia in un protocollo non nel testo principale. Questi strumenti di diritto pubblico internazionale, di diritti umani, tutelano le mie persone nei miei esempi. Possono derivare di questi strumenti internazionali diritti soggettivi che danno protezione contro il nebis anidem o per il nebis anidem confrontando questa giurisdizione doppia. La risposta è no. E come mai questi strumenti di diritto pubblico internazionale e diritti umani hanno solo effetto nella legislazione, nella giurisdizione domestica di ciascun Stato parte a questi strumenti. Cioè non danno protezione trasnazionale. Allora ovviamente si chiede se il diritto dell'integrazione della unione stessa mercato interno spazio di libertà sicurezza e giustizio danno sì o no questa protezione. Allora si vede una storia interessante perché i trattati non lo danno. I giudici ovviamente lo potrebbero creare a partire dai principi generali del diritto dell'unione per anche i giudici anche i giudici tanattivi della tanto di Strasburgo come della corte di giustizia dell'ussemburgo ovviamente hanno bisogno di qualche base qualche vincolo nei trattati o nel diritto dell'unione derivato. Allora sul Nebesinim è abbastanza interessante vedere che la prima protezione del Nibis e Niden trasnazionale in questo spazio comune viene dai trattati di Schengen conoscono i trattati di Schengen dall'aeroporto sono trattati intergovernativi degli anni 80 cioè non era diritto della comunità o diritto dell'unione però vengono integrati nel diritto dell'unione con il trattato di Amsterdam cioè il diritto Schengen diviene diritto dell'unione e poi nel trattato di Schengen i stati Schengen anche l'Italia all'inizio dei stati Schengen avevano accettate tra loro non solo cooperazione di polizia cooperazione giudiziaria cioè migrazione ovviamente eccetera eccetera per anche un principio Nebesinidem trasnazionale nello spazio Schengen poi introdotto nel trattato di Amsterdam divenne ovviamente lo spazio dell'unione i primi conflitti che sono arrivate alla corte europea di giustizia a Luxemburgo sull'applicazione di questo principio Nebesinidem i stati Schengen ma anche gli altri stati hanno detto lo scopo di questo principio e la filosofia cioè lo razio di questo principio è un principio intergovernativo dipende dall'interpretazione degli stati questo è interessante perché la vecchia filosofia del diritto internazionale ovviamente la corte europea di giustizia ha detto che no una volta introdotto nella unione e nello spazio comune io corte ne faccio una interpretazione autonoma con altri obiettivi divenne un principio generale di un diritto umano dentro dell'unione che vincola non solo stati però anche tutte le autorità giudiziarie nel processo penale dopo la corte europea di giustizia ha sviluppato una giurisprudenza sono già più di 20 affari sull'interpretazione di questo nuovo principio Nebesinidem derivato di Schengen però divenuto principio europeo dell'unione ha definito l'idem o il medesimo fatto cioè quell'esempio olandese esportazione importazione secondo la corte è un medesimo fatto impossibile farlo due volte ha definito anche il bis il bis è l'esempio ovviamente del tedesco italiano però anche dando uno scopo più ampio a sentenza definitiva perché Nebesinidem protegge contro due sentenze definitive secondo la corte non si limita alla sentenza definitiva di un giudice o di un tribunale però può anche essere una decisione definitiva processuale penale di un pubblico ministero anche questo fa impossibile una seconda persecuzione una seconda condanna cioè uno scopo molto più ampio di protezione ecco allora in questo esempio protezione nei bisogni dem è andato bene la corte ha trovato un cenno nel diritto dell'unione derivato per sviluppare un principio di diritto umano proprio in questo spazio integrato nuovo ovviamente il processo penale va molto al di là se prendiamo diritto al silenzio nel processo penale la presunzione di innocenza l'admissibilità delle prove vincolata ovviamente all'ottenzione delle prove in uno spazio comune tutte queste cose non sono ancora regolate né dalla parte del legislatore né dalla parte della giurisprudenza questo vuol dire che c'è un mucchio di lavoro da fare per arrivare a una protezione a una tutela completa della persona nel processo penale e darle dignità dentro questo nuovo spazio grazie grazie ci ha detto come da una parte si risolvano i problemi alla luce però di una interpretazione ragionevole ed evolutiva dei principi dei diritti dell'uomo e nello stesso tempo ci ha indicato quali altri terreni sono ancora da arare da dissodare e che possono essere anche questi oggetto di attenzione per la nostra rivista grazie alle indicazioni che ci ha date il professor Ferroval la persona nel diritto commerciale abbiamo ancora dei traguardi raggiunti o dei traguardi da raggiungere come sembra che ci stanno indicando i colleghi ringrazio la direttrice della rivista e dell'istituto giuridico per avermi fatto sapere ieri sera che io non sei stato tra gli ascoltatori ma tra gli intervenienti perché non mi era arrivata la locandina la locandina quindi vi scuserete se la mia esposizione sarà per flash e poi inoltre per guadagnare tempo nella prima parte preferirei leggere non è sovente per il cultore del diritto dell'impresa occuparsi di persona e diritto ma dico subito che il problema si pone certamente anche per questo settore del diritto e del resto lo prova una sentenza che proprio in questi giorni ha emanato la Corte di Strasburgo per risolvere il caso Consob Exor Grande Stevens e Gabetti sentenza importantissima per i cultori del diritto commerciale in questa sede comunque affronto l'argomento solo appunto come dicevo per flash e quindi sfioro appena i temi ma anche in quest'ottica sono necessarie delle premesse e ho precisazione premesse che attingo dal ricordo di un convegno di circa dieci anni fa che aveva per titolo declino del soggetto e ascesa della persona è evidente che il porsi di una simile prospettiva costringe a discostarsi dalla posizione di Pietro Rescigno per il quale il discorso su personalità soggettività capacità possa ridursi a una disputa terminologica che non sia così lo abbiamo sentito in parte qui dai colleghi romanisti ma ricordo soprattutto fra i romanisti anche mi piace ricordare anche quando diceva Pierangelo Catalano il quale diceva che nel diritto diceva indicava la soggezione all'altrui protere mentre la persona indicava la realtà dell'uomo che dà ordine al sistema giuridico in quest'ottica persona è allora riferibile ad una realtà umana che preesista il diritto positivo e a causa del quale il diritto è costituito mentre ascesa della persona rispetto al soggetto significa maggiore riconoscimento maggiore incidenza sul sistema della sua preesistenza anche giuridico al diritto positivo altra precisazione anche il diritto dell'impresa come il diritto comune dà rilievo all'inizio e alla fine della persona è sufficiente porsi il problema dell'inizio e della fine dell'impresa e dei relativi effetti nel caso di fallimento ed ugualmente anche il diritto dell'impresa dà rilievo alla speranza di una nascita non concepito e all'attesa di una nascita è concepito in diritto romano anche il nasciturus era persona spero che il collega Negri e il collega Amza confermino non così invece per l'articolo 1 del nostro codice civile il cui secondo com è noto stabilisce che i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all'evento della nascita alla luce di queste premesse vorrei limitandomi a ricordare due casi che sono molto significativi nell'ambito del diritto dell'impresa inizio con un caso rarissimo molti anni fa si è verificata la seguente fattispecie un'eredità nella quale c'erano fior di aziende in esercizio a cominciare da un grandalbergo romano aziende incluse dal testatore nella disponibile lasciata ai nascituri non concepiti dei figli dell'ereditanto si presentò il problema dell'amministrazione della disponibile della quota disponibile di eredità includente tale aziende ricordo che si chiese ed ottenne l'autorizzazione alla continuazione dell'impresa direi ancora che a mio avviso in un caso come questo l'intervento del giudice non solo era possibile ma era necessario e questo non solo per l'accettazione ma anche per l'eventuale rifiuto di questo di questo lascito della disponibile e il giudice in questi casi deve stabilire se l'impresa deve continuare o meno decisione che accede manifestamente dai poteri del gestore sarei poi propenso a ritenere che anche qui come la giurisprudenza ritiene che l'ipotesi di autorizzazione per l'autorizzazione del minore all'esercizio dell'impresa debba ricorrere anche in questo caso i problemi collegati a questa fattispecie sono molti a parte quelli appena accennati in primo luogo viene in considerazione la questione della parificabilità del caso a quello dell'eredità giacente ed il quesito va risolto positivamente ed ugualmente positivamente va risolto l'interrogativo circa l'esistenza di un patrimonio autonomo separato ma tutto questo fa ulteriormente sorgere un doppio quesito chi è l'imprenditore e cioè il soggetto cui imputare l'esercizio dell'impresa direi che in questo caso si tratta di una fattispecie di impresa senza imprenditore non esistendo ancora nemmeno un concepito il secondo quesito mancando un imprenditore e pur esistendo un'impresa commerciale comporta la domanda su cosa accade nel caso di insolvenza lascio il quesito all'illustre processualista e fallimentarista che sede accanto a me e che forse può trarre ragione per non annoiarsi e per non essere così disfattista come è sembrato poco prima continuando nella casistica ricordo un altro problema e cioè che anche per il diritto dell'impresa è importante la determinazione della fine della persona umana questo perché l'articolo 11 della nostra legge fallimentare ammette anche la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore defunto entro l'anno della sua morte finora mi sono occupato della persona umana ma è assai noto che nel diritto dell'impresa assumono un rilievo di grande importanza anche la persona giuridica e la soggettività giuridica soprattutto con riguardo all'impresa esercitata in forma collettiva e soprattutto in forma societaria ma anche con riguardo dall'esercizio di un'impresa da parte di una fondazione o da parte di un'associazione riconosciuto o no limito il discorso alle società e ricordo che a differenza di quando accade nella tradizione francofona abbandonata dal nostro codice civile del 1942 le nostre società si distinguono in società di capitale munite di personalità giuridica che si acquista con l'iscrizione nel registro delle imprese e società di persone alle quali oggi la dottrina e la giurisprudenza negano la personalità giuridica ma riconoscono alle stesse la soggettività giuridica la differenza tra società con e società senza personalità giuridica consiste secondo l'orientamento attuale nella circostanza che nelle società con personalità giuridica esiste una struttura corporativa che significa ripartizione delle competenze in una pluralità di organi se ricordi tipicamente la società per azione assemblea amministratore collegio sindacale non posso qui occuparmi né della storia della personalità giuridica la professoressa Fumagalli potrebbe istruirci attingendo al diritto canonico né delle varie teorie relativamente alla stessa formulate desidero solo ricordare che soprattutto ancora in Germania si contrappongono alle teorie normative le cosiddette teorie realistiche delle personalità giuridiche le prime cioè le teorie normative considerano le persone giuridiche come espressione sintetica di una disciplina normativa per ricordare un'espressione cara da Scarello e quindi considerano la personalità giuridica come strumentale al perseguimento degli interessi dei soci la teoria realistica per contro vede un rapporto di terzietà tra i soci e la persona giuridica con la conseguenza che mai può essere superato squarciato il velo della persona giuridica attraverso il cosiddetto durschgriff nemmeno nel caso di abuso dello strumento della persona giuridica stessa collegata alla concezione realistica della persona giuridica è la tesi dell'unternehmen in SIC dell'impresa in ZE che porta alla concezione istituzionalistica della società per azione soprattutto di grandi dimensioni con la conseguenza del riconoscimento di un interesse della società diverso e contrapposto e superiore a quello dei soci che può facilmente portare all'accettazione delle teorie modelle della responsabilità sociale dell'impresa già codificata nel Regno Unito nel Company Act del 2006 ed in Germania ed in Austria nei codici di autodisciplina responsabilità sociale in funzione di tutela non solo degli azionisti degli stakeholder ma anche di tutela dei dipendenti dell'ambiente e ad esempio con riguardo al problema dello stipendio dei dirigenti di cui si parla tanto in questi giorni si dice che lo stipendio di un dirigente non può essere superiore tot volte a quello medio di un dipendente ma quello che qui preme sottolineare riprendendo il discorso iniziale che persona giuridica e soggettività giuridica a mio cauto giudizio anche seguendo la teoria realistica della persona giuridica non possono preesistere al diritto positivo giuridico chiudo questo tema accennando alla circostanza che anche con riguardo alla persona giuridica si finisce talvolta con l'accogliere congezione antropomorfo che della stessa così ad esempio nel caso di fusione tra società sia il diritto comunitario societario sia i diritti nazionali sono soliti configurare il fenomeno come un caso di successione intervivo ed ancora anche in omaggio al collega ed amico Hamza ricordo che in Ungheria come già prima in Portogallo Spagna Polonia è stata codificata la cosiddetta teoria della forgeserschaft o società preliminare o presocietà come le chiamava come in Italia venivano chiamate da Mossa elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza germanica ma non codificata questa è singolare nell'act in gesetz mentre oggi tutte le nuove legislazioni europee tranne l'Italia codificano la forgeserschaft in base a questa teoria quando si ha il conferimento in una società di capitale di un'azienda in esercizio già prima dell'iscrizione della società nel registro di commercio e quindi già prima dell'acquisto della personalità giuridica si ha una società per azione prima appunto della personalità giuridica che tuttavia questa società questa forgeserschaft avendo soggettività e capacità giuridica può bene esercitare l'attività di impresa ed ha uno scopo transeunte quello di portare la società all'acquisto della personalità giuridica esercitando nel frattempo l'attività di impresa non reputo pertanto del tutto forviante l'accostamento che forse provocatoriamente aveva fatto il collega Marco Spolidoro il quale con riferimento a questa figura aveva addirittura l'aveva addirittura paragonata dal nasciturus richiamo ancora richiamando ancora le congezioni antropomorfiche della persona giuridica e concludendo mi piace ricordare che anche nei confronti delle persone giuridiche si è posto il problema del danno reputazionale come pure quello e soprattutto della libertà di stabilimento o quello della indignità a succedere o quella ancora dell'approfittamento dello stato di bisogno da parte della società nei confronti del socio non ariano che aveva effettuato dei conferimenti in natura nelle SPA per sottrarsi alle leggi razziali problemi questi ultimi risolti positivamente in due note sentenze dalla nostra Corte Suprema grazie grazie al professor Portale che si è occupato sia della persona fisica nel diritto commerciale ma poi ci ha dato l'apporto ulteriore che in qualche modo era stato concordato con te sulla persona giuridica sulla quella che è l'assimilazione della persona giuridica alla persona fisica sulla base di quella che lui ha chiamato appunto la concezione antropomorfica della persona giuridica e ce l'ha fatto vedere quanti altri spazi potranno essere occupati in materia chiedendo scusa al professor di mento che è stato costretto ad ascoltare tanti oggi abbiamo però l'opportuna di averlo per quanto riguarda in particolare uno dei nuovi diritti come avevo accennato tra l'altro ormai un diritto maturato cresciuto sviluppato nel mondo e negli ordinamenti che è appunto il diritto all'ambiente all'environment grazie grazie sinceramente per l'invito è un gran piacere e onore di essere qui di nuovo grazie professor forti direttore carulli direttore anelli presidente pastori i will speak first in english and then a little italian parlo in italiano come un insalata mista un po' con le forme formali che non usa adesso in Italia che ho imparato dei miei nonni cinquanta anni fa un po' di dialetti da sparafoda in Sicilia da fondi vicino a Terracino anche capisco bene che io sono l'unico ostacolo tra voi e pranzo quindi non parlo un grande discorso the person or individual in the law dialogues between disciplines and regulation la persona e il delito dialoghi tra disciplina e ordinamente this is a theme very open to interpretation tema molto aperto a interpretazione that's a challenge and an opportunity quindi è una sfida ma anche un'opportunità so I will speak about the field of law that I love the most and have lived for my career quindi sto parlando della delito dell'ambiente la mia disciplina e la rapporto con scienza I will make just four points faccio solo quattro punti numero uno first point although the name is environmental law the individual throughout the 50 to 60 years of environmental law has had a major focus benché si chiama delito dell'ambiente nonostante questo qua la persona è un foco e si focalizzate sulla persona and we see this in our leading examples of law non solo not only in the united states but elsewhere we see this vediamo non solo nelle legislazioni americano ma legislazioni da per tutto in questi giorni per esempio for example the clean air act la legislazione contra l'inquinamento da aerea the first focus of this act is on public health primary air quality standards to protect the health of the most vulnerable people in society focalizzati sulla salute pubblico focusing on the people with the biggest challenges with regard to breathing a second example un esempio secondo the grandfather of environmental law il nono del delito dell'ambiente the national environmental policy act valutazione impatti ambientale it says and listen to what the congress says ascolta the congress il nostro parlamento recognizes the importance of the environment for the overall welfare and development of man focusing even though it's environmental law on man the person as central point number two punto due it's possible that that human focus in the law may not be enough forse focalizzati alla persona non basta per sostenibilità the human species can adapt to much of the environmental degradation that we're creating we can live without whales and polar bears possiamo vivere senza balene senza orsi polare I know there is a web of nature but man has a very clever way of adapting so we could go forward where sustainability does not exist listen even to the major legislation focused on protecting endangered species legislazione nazionale dei paesi ma anche trattata globale these species of fish wildlife and plants are of aesthetic ecological educational historical recreational and scientific value to the nation and its people yes but they have rights themselves and again forse questo fuoco sulla persona non basta per sostenibilità punto number three point three science has played and is playing a significant role in environmental law scienza è importante nella storia del diritto ambiente infatti ha un rollo centrale for example scientific discoveries were central to our creating international laws to protect the ozone layer science was instrumental in our attempts to stop the changing of the climate science is instrumental in our attempts to protect endangered species sia del buco di ozono sia da cambiamento climatica sia per proteggere gli animali e piante specie pericoloso in fact recently the international court of justice the world court declared that the japanese attempts to use scientific justification to take to hunt whales was a charade and said that the interpretation of science that the japanese were using was unacceptable under the law is the scientific basis sufficient sono un po preoccupato che la gente particolarmente i americani hanno cominciano ad essere anti scienza per esempio non abbiamo entrata nella Kyoto protocol perché un parte del parlamento the congress pensa che non è giustificato della scienza questo non è vero point four and i think this relates more directly to what my colleagues are saying in environmental law we are facing again the question of which persons who which persons are to benefit from the development of environmental law does does environmental law privilege some in society and forget others chi quale persona è privilegiato quando andiamo avanti con il sviluppo del 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 dito d'ambiente in this area I'm talking about environmental justice giustizia dell ambiente e qui entriamo nel mondo del diritto umano come questo diritto è trovato nel diritto internazionale sia globale sia africane sia americano du sud sia Europa We are facing some troubling questions with regard to the development of environmental law and who benefits by it For example due examples the interesting and troubling controversy on climate change as a priority certo cambiamento climato è un problema molto grave ma ci sono un sacco di altri problemi che dobbiamo confrontare che forse possono aiutare i poveri molto più veloci che pensando della generazione future in climate change another example involves air pollution this is a point a little bit technical but I think goes to the question of whose rights in air pollution control law we have a concept that as long as you protect the environment in general against inquinamento da area non è importante esattamente dove le missioni esistono solo una questione della fine nell'atmosfera l'area è meglio but this forgets that people live next to and near pollution sources so in the United States we have this very strong movement of environmental justice to protect the poverty that are very close to the font of emission and inquinamento of air a concludere infatti è un grande onore di essere con questo gruppo e spero che possiamo continuare insieme andare avanti sviluppare un diritto umano anche come una parte del diritto ambiente come direttore Carulli Fumagali Carulli ha scritto nell'estratto we can learn from each other apply international law in national courts scambiare exchange ideas from our courts the european court of justice the international courts per sviluppare un abelito ambiente che non dimentica i poveri grazie l'intervento del professor di mente è stato un degno coronamento della giornata nella mattinata e ci ha messo in rilievo quello che è il problema fondamentale l'universalismo dei diritti e il particolarismo degli stati degli ordinamenti nazionali il grande ordinamento degli stati uniti ancora si muove in linea di particolarismo e non di adesione a convenzioni internazionali a quei patti internazionali chi vivrà noi abbiamo cercato di dire che l'universalismo dei diritti deve prevalere sul particolarismo degli stati però abbiamo visto come in tanti casi anche nella stessa ordinamento europeo si rischia se non c'è un giudice che mette assieme i due ordinamenti che non si realizzi quello che è un minimo ragionevole diritto della persona umana ombretta credo che all'una non so penso che dobbiamo chiudere o se c'è se c'era la domanda le domande organizzate dagli studenti e lui se riesci a parlare vedo ringrazio la professoressa prego ringrazio la professoressa Fumagalli per essersi ricordata anche personalmente spero che questo non venga interpretato come un privilegio di status direi che in realtà propenderei per non tediarvi oltre dato che molti profili sono già stati trattati approfonditamente dai relatori vorrei comunque portare il saluto della comunità studentesca e l'augurio di buon lavoro a tutti i componenti del comitato scientifico che oggi si insedia comunità studentesca peraltro fortunatamente molto presente oggi a testimonianza dell'integrazione tra appunto la componente studentesca e il personale docente che credo dovrebbe caratterizzare le vere comunità accademiche vorrei solo concludere per quanto mi riguarda con un piccolo ricordo personale che riguarda proprio la rivista IUS ho avuto occasione di affezionarmi in prima persona a questa rivista quando sono stato chiamato a tenere qualche breve incontro in alcune scuole superiori con ragazzi che si affacciavano al mondo dell'università in merito alla costituzione italiana e in altri casi in merito al processo di Norimberga quindi ho avuto occasione di abbeverarmi alla fonte della rivista IUS in particolare ad alcuni dei numeri degli albori risalenti addirittura al 1950 in cui ho ritrovato due importanti articoli uno è il diritto dopo la catastrofe di Capograssi e un altro è un affascinante articolo di un professore spagnolo che è stato costretto durante le persecuzioni naziste a fuggire in Messico proprio questo articolo del professore Alcalazza Mora e Castiglio aveva conteneva delle feroci critiche al tribunale internazionale di Nuremberg e mi ha molto colpito però non solo i contenuti dell'articolo ma la nota della redazione della rivista IUS allora evidentemente insediata che recitava sulle idee espresse può sorgere qualche discussione dal punto di vista delle premesse ideologiche ma non può esservi disputa intorno al rigore giuridico con cui esse sono state inquadrate e alla nobiltà e originalità del pensiero da cui esse scaturiscono ecco vorrei dire che non ho dubbi che il comitato scientifico che oggi si insedia saprà perpetuare questa nobile tradizione di libertà della ricerca giuridica nel rispetto del rigore metodologico grazie vuole intervenire abbiamo l'onore del rettore dell'università complutense di Madrid che fa parte dei referis della ricerca non voglio essere un altro ostacolo tra voi il pranzo mi permetterò io sono molto contento di essere qui stamattina perché sono molto gradito alla mia cara amica e collega professoressa Ombretta Fumagalli per avermi invitato a essere presente oggi a essere anche parte del gruppo dei revisori della rivista Giuse perché ho imparato tante cose è peccato che la sessione deve avere un limite mi permetterò fare una domanda mi permetterò farla in itagnolo che come sapete è questa strana lingua che parlano gli spagnoli che dicono che sanno parlare italiano è una domanda concretamente sull'ultimo intervento quello del professor Dimento che mi veniva suggerita precisamente dall'aspetto morale del rispetto all'ambiente del discorso ecologista a me piace molto questo discorso ecologista per parecchie ragioni una di loro è perché situano gli uomini ogni uomo ogni uomo singolo uomo come parte di un ecosistema più ampio cioè noi non siamo isole siamo parte e questo discorso della natura la natura ha le sue regole le sue leggi che tutti dobbiamo rispettare mi sembra che è un discorso che merita essere approfondito ma io trovo in questo discorso una limitazione importante tal come si formula che tante volte questo concetto di natura il ruolo dell'uomo dentro questa natura si limita esclusivamente all'aspetto materiale fisico dell'uomo cioè quando arriviamo all'aspetto della dimensione morale o delle regole giuridiche che devono regolare le vite delle società e il diritto a una base morale importantissima questo discorso è scomparso completamente sembrerebbe che le leggi naturali non esistono esistono soltanto nell'aspetto materiale dell'uomo e che la dimensione morale dell'uomo è completamente irrilevante o non esiste o è condennata a essere soltanto una materia della libera scelta dell'individuo queste società liquide che ci parlava la professoressa Fumagalli alcuni minuti fa io mi domando questo mi sembra contraddittorio contraddittorio con il discorso ecologista a se stesso perché prima il discorso ecologista è il quarto punto che voi avete fatto nel vostro intervento è molto chiaro il discorso ecologista ha una dimensione morale a se stesso importantissima poi perché io personalmente non trovo ragione alcuna per escludere la dimensione morale di questo ubicare situare l'uomo dentro un ecosistema più ampio io mi domando perché questa resistenza tante volte irrazionale a ammettere la naturalità delle leggi che devono regolare le condotte morali e giuridiche delle società contemporanee insisto penso che questo sia una materia importante per riflettere ho la mia personalità mi piacerebbe tanto di ascoltare la sua opinione grazie grazie molto veloce perché sono un ostacolo il pranzo in English will be better so perhaps somebody can translate I think that in a maturing environmental law we are seeing the introduction of a more balanced approach to addressing problems of sustainability so even in international treaties the terms sustainable have replaced environmental protection the focus on development has been added to the focus on the natural environment having said that even before that there has always been an element of concern with morality and morals in the development of environmental law including early work that said we have to address the Judeo-Christian ethic of protection of the planet and there were very different interpretations of what that ethic was do we dominate the species or do we work to save the species so I think the point is extremely important and I think to the extent we learn how to combine these focuses we will have a environmental law that is more acceptable to a larger part of the population thank you thank you Sì, per chiudere, prego, no, sì, no, io ho capito che Bombelli fa parte del comitato di redazione, non sono il papà, spero di non essere un ulteriore ostacolo al vostro pranzo, sono una semplice comunicazione di servizio, cioè nell'opera di restyling della rivista appunto promossa dalla professoressa Fongari Calulli, c'è anche l'iniziativa di lanciare una call for paper, cioè una richiesta di contributi che è in qualche modo rivolta soprattutto ai più giovani studiosi delle materie giuridiche, proprio a partire dai temi che sono stati approfonditi oggi. Questo in qualche modo pone la rivista non soltanto in fascia A ma anche nello stile delle riviste più accreditate, anche nel settore giuridico, gli astra migliori per così dire verranno selezionati e verranno poi inseriti in una sezione specifica del sito della rivista. Questa è un'altra novità che è stata introdotta appunto per la volontà della professoressa Fongari Calulli e anche questo colloca la rivista diciamo nel novero delle riviste giuridiche internazionali. Tra gli abstract come dire selezionati poi da porre nella sezione specifica del sito verranno selezionati ulteriori abstract, ulteriori contributi da poi mettere nella versione cartaccia. Solo questo, buon pranzo a tutti. Buona giornata. Buon pranzo a tutti. Buon pranzo a tutti. Buon pranzo a tutti. Grazie. Grazie. Non so se devo dare comunicazioni di servizio. Grazie. 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 Grazie.